E allora ci siamo, batteria finale, Covatti, Castagna, Franchetti, Carpanese E va le comande, Covatti in seconda posizione, Franchetti è terzo, Carpanese quarto Attenzione al passaggio del primo giro, Castagna, Covatti Castagna, Covatti, Franchetti, Carpanese Due giri alla termine, attenzione si avvicina Covatti al comando ancora Castagna Castagna, Covatti, Franchetti, un giro alla termine toys in giro o al termine, stiamo all'ultima staccata viti dalla copi, dai 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 dai, e stiamo adesso ARecordiamo solo